ciao cari amici e benvenuti a questo nuovo video in questo video voglio parlarvi trasmettervi quelle che possono essere delle opportunità e delle possibilità per il futuro perché in questo periodo di clausura siamo a fine aprile ormai quindi sono già due mesi di lockdown dove siamo chiusi in casa siamo evidentemente davanti a un mondo che sta per finire se ne prospettano due particolarmente scenari possibili davanti a noi uno di questi scenari è un mondo iper tecnologico iper controllato dove la natura viene marginalizzata è messa come dire in secondo piano così come il benessere delle persone viene messo in secondo piano e da un altro punto di vista invece la seconda opportunità è un mondo un po' più tranquillo dove il verde viene messo più al centro dell'umanità dell'essere umano dell'umanità il benessere pubblico le risorse vengono condivise dove c'è un sincero una sincera preoccupazione anche nei confronti degli altri in parte questa cosa è già anche realizzata dai paesi del nord Europa non che a me i trucchi stiano particolarmente simpatici ma in parte lo sono anche più che altro per il loro modo che hanno di affrontare alcune questioni una di queste è la domanda che loro si pongono quando devono fare delle scelte ad esempio nei paesi del nord Europa se devono pensare a un provvedimento, legge o a delle cose si chiedono se è giusto farle oppure no al contrario da magari noi in Italia dove l'interesse di solito è prevalente e quindi la domanda che noi ci poniamo è è un po' tutto il meccanismo della politica e dell'economia italiana a partire dalle grandi aziende, dalla politica statale passando per le province, le regioni, i comuni, le aziende più o meno grandi fino ad arrivare al fruttivendono dietro casa spesso le persone ragionano per interesse personale se siamo finiti in questo lockdown è purtroppo anche una questione come in oriente direbbero il karma che arriva al pettine in un qualche modo ora è logico che per riuscire a risolvere un problema il problema come diceva Einstein non lo puoi risolvere con la mente o la mentalità con cui il problema è stato creato e il problema anche è che spesso se non si fa ricerca personale se non si conoscono tante cose è difficile riuscire poi a modificare qualcosa effettivamente perché mancano dei paradigmi di pensiero mancano delle informazioni a mio avviso il sistema italiano andrebbe ribaltato come un calzino da un punto di vista economico, politico, sociale andrebbe fatta proprio una rivoluzione anche in base al fatto che la nostra Costituzione italiana che è un documento, un testo quasi perfetto non è rispettata nella sua totalità nella sua meravigliosa essenza che all'articolo 2 prevede ad esempio il pieno sviluppo della persona umana sia in senso materiale ma anche in senso spirituale e questa è sicuramente una cosa fantastica e meravigliosa ora ogni settore della nostra vita ha dei ministeri di competenza così abbiamo la sanità, abbiamo la scuola quindi l'istruzione e tutta una serie di commercio l'economia, finanze, mestri interni quindi abbiamo tutta una serie di ministeri preposti appunto a gestire tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita che purtroppo negli ultimi 70 anni quindi prima e seconda repubblica si sono mosse non sempre nel pieno sviluppo dello Stato nel pieno sviluppo del cittadino nel pieno sviluppo della persona umana ma anzi spesso e volentieri hanno aumentato le risorse di gruppi di potere lobby, gruppi mafiosi e molto altro questo creando un sistema quasi feudale e molto diramato difficoltoso da andare a scalzare ecco diciamo che noi finora abbiamo sempre guadagnato noi, io no molte persone hanno sempre guadagnato dalla speculazione piuttosto che dal bene comune ora esiste anche un'economia virtuosa non esiste solo un'economia viziosa e l'economia virtuosa si può andare a creare e non è detto che non si possa guadagnare anche da un'economia virtuosa si può guadagnare anche da un'economia virtuosa il problema è che se uno non conosce i paradigmi di un'economia virtuosa da un punto di vista sociale e economico ma si guadagna mantenendo le persone fondamentalmente nell'ignoranza è logico che certe informazioni fanno fatica ad arrivare ora io di base sono un curiosone ricercatore che dir si voglia e mi sono interessato di tante cose nella mia vita tra cui appunto anche come costruire dei sistemi ecologici che a mio avviso la scuola quindi l'istruzione la sanità e quindi non tanto la medicina allopatica che quella cura semplicemente un problema o semplicemente per modo di dire sicuramente grandissime competenze ma nel mio sogno io vedo delle persone consapevoli e che non si ammalano perché utilizzano delle tecniche di prevenzione e prevenire è meglio che curare magari i medici lavoreranno molto meno o magari solo con persone molto anziane ma ciò non ritengo che sia un male non è in realtà un bene da un punto di vista statale è anche un risparmio ma ci può essere un investimento e un potenziamento in tutto quello che è una serie di altre professioni come appunto i nutrizionisti come appunto l'omeopatia come ad esempio tutta un'altra serie di cose inerenti al mondo olistico logicamente che servono per mantenere sano un essere umano non per curare malattie certo ci possono essere anche dei protocolli che possono anche guarire un qualche livello ma non deve essere quello lo scopo del mondo olistico lo scopo del mondo olistico deve essere quello di fare rimanere una persona in una condizione sana e ottimale più o meno per tutta la sua vita da un punto di vista energetico mentale quindi psichico emotivo quindi lavorando sul bambino interiore quindi una coscienza di sé e un io centrato e ovviamente anche da un punto di vista fisico attraverso un'alimentazione sana ed equilibrata attraverso l'integrazione di tutto ciò che serve quindi a livello di vitamine retinoide tutto quello che serve al corpo per lavorare bene ovviamente il movimento aria sana e quindi tutta una serie di cose sane quindi venendo a questo ci sono anche delle tecnologie che noi possiamo andare ad utilizzare per migliorare la nostra vita e non di poco ne ho portate un po' in un riportate riassunte in un post in un articolo che è qui composto che ho scritto comunque su facebook sulla mia pagina in risposta a una domanda che era stata fatta da un'amica sotto a un suo post dove chiedeva ma se potessi presiedere per un giorno come incaricato al ripristino nelle risorse ambientali che cosa faresti? ok io mi sono messo a pensare e ho come dire prodotto una specie di disegno legge denominato salviamo capra e cavoli ovviamente è ironico e adesso lo voglio leggere insieme a voi e eventualmente commentare laddove ci fosse qualcosa da commentare allora l'articolo 1 parla dell'energia elettrica e delle energie rinnovabili quindi l'articolo 1,1 sarebbe ogni tetto di abitazioni case private palazzi aziende ville eccetera deve essere aggiornato entro una decina d'anni a produttore di energia elettrica a pannelli solari o tegole fotovoltaiche e a sistema eolico a colonna con coefficienza di produzione certificato fondamentalmente non sia arcaico ma di nuova generazione quindi in questo senso l'obiettivo è quello di cominciare a rendere ogni abitazione almeno indipendente da un punto di vista del fabbisogno energetico articolo 1,2 entro 10 anni ogni casa abitazione privata eccetera deve essere dotata di accumulatore di 1,5 gigahertz si possono montare gli accumulatori in casa così come le caldaie fino a 200 metri quadri e salire progressivamente a seconda del fabbisogno energetico dello stabile quindi se noi abbiamo uno stabile che è più di 200 metri quadri servirà più di un accumulatore questi momentaneamente non credo siano ancora legali in Italia non sono informato come è cambiata la normativa di legge in questo momento ma la loro funzionalità è ad avere sempre una riserva energetica carica e l'energia in surplus logicamente viene riversata nella rete come qualsiasi produttore fa quindi articolo 1,3 ogni produttore indipendente riverserà nella rete il surplus energetico la rete gestita dallo Stato che logicamente questa dovrebbe essere una rete gestita dallo Stato e non da un privato pagherà come fornitori di rete l'energia fornita per ridistribuirla a costi differenti a seconda del reddito o dell'impiego secondo le fasce di reddito di cittadinanza che è in stato di povertà ha diritto alla luce gratuita e questo mi sembra il minimo e quindi sostanzialmente lo Stato assume tutti i cittadini che diventano produttori di corrente elettrica esattamente così come può assumere l'Enel ok parte è sua comunque io posso diventare un fornitore questa cosa in realtà già si può fare quindi non sto dicendo in realtà nulla di nuovo però logicamente non è mai stata potenziata questa cosa e non è mai stata debitamente incentivata articolo 1,4 incentivi per sostituzione caldaie domestiche con caldaie tipo Stirling o a differenza di calore o pompa di calore minimo spreco di energia elettrica quindi sostanzialmente noi abbiamo nelle caldaie che funzionano praticamente consumando un botto di gas invece ci sono delle pompe di calore caldaie tipo Stirling appunto come detto che riescono a generare la stessa quantità di calore con soltanto il 20% di spreco rispetto a quelle che normalmente o quotidianamente utilizziamo sono poco incentivate perché logicamente costano dai 5 ai 10.000 euro di solito hanno dei costi non troppo agevoli ma considerando quanto fanno risparmiare logicamente ci può essere tutto l'interesse a pensare di aggiornare queste tecnologie logicamente nell'obiettivo di andare a consumare sempre meno fossili e sempre meno corrente elettrica articolo 1,5 obiettivo a 10 anni di abbattimento dei fossili nella produzione di energia elettrica per uso domestico o uso industriale dal 90% al 100% questo per cominciare a dismettere sicuramente il carbone e sicuramente quella che è l'apporto che noi abbiamo dalla Francia di energia elettrica derivante da produzione da centrale nucleare e quindi invece incentivare quelle che appunto sono tutte le tecnologie green che noi abbiamo e ne abbiamo tante e quindi a seconda della conformazione del territorio cioè se siamo in montagna possiamo appunto fare le dighe oppure montare pale eoliche oppure appunto micro ma questo ne poi parliamo anche dopo articolo 1,6 comunità montane abitazioni isolate difficilmente raggiungibili incentivi per modernizzazioni e incentivo alle energie pulite pelletto soluzioni idroelettriche domestiche o cittadine o micro idroelettriche di poco o nulla in pianto ambientale la soluzione micro idroelettrica è una soluzione che pochi conoscono ma è veramente intelligente sono praticamente dei piccoli mulini che si possono addirittura installare anche in pochi metri quadri dove scorre l'acqua corrente anche dei fiumi di montagna che si può tranquillamente incanalare facendo appunto una micro diga di queste se ne possono fare interrate nei paesi appunto montani o collinari insomma dove ci sono dei fiumi se ne possono fare tantissime ogni casa potrebbe avere tranquillamente anche in un tombino un produttore in questo senso di corrente elettrica cioè il principio lo stesso di una di una centrale idroelettrica ma formato micro articolo 2 quindi passiamo al secondo articolo veicoli e viabilità stradale logicamente qua andiamo a vedere quello che è l'inquinamento parte dell'inquinamento ambientale considerando che una larga parte dell'inquinamento ambientale è dato dal riscaldamento domestico diciamo che l'inquinamento è più fattori una parte è appunto il riscaldamento domestico un'altra solo le lavorazioni dei metalli dei petrolati quindi tutte le lavorazioni industriali un altro ovviamente sono i termovalorizzatori che purtroppo sarebbero tutti da ritermovalorizzare meglio ecco ci sono delle tecnologie a non emissione in atmosfera non ne parliamo adesso bisognerebbe trattarne in una maniera un po' più specifica e precisa magari fare un video appunto sui termovalorizzatori e come valorizzare davvero i termovalorizzatori passiamo alla viabilità stradale invece articolo 2,1 entro dieci anni ogni veicolo benzina o diesel può essere trasformato in bifuel trifuel o quadrifuel addirittura quindi fossile benzina diesel serbatoio metano gpl elettrico pompa idrogeno a supporto può essere trasformato perché ci sono anche per esempio i protocolli di trasformazione nei veicoli semplicemente da benzina a elettrico quindi potremmo riqualificare anche il parco macchine sicuramente le macchine fatte negli ultimi dieci anni uno lo può fare anche con una macchina vecchia se gli piace la sua auto vecchia e se la vuole tenere logicamente riportando la norma di legge quindi si può dotare di una centralina con gestione delle energie con emissioni vicine allo zero questo è un progetto legge abbattimento spreco veicoli e riqualificazione parco macchine è logico che i produttori di auto non saranno molto felici di questa cosa perché si basano ovviamente sul continuo consumo di automobili però logicamente non possiamo continuare a produrre all'infinito pensando che le risorse su questo pianeta siano infinite quindi ci stiamo muovendo in questo senso nella direzione sbagliata e questa è probabilmente la direzione più giusta cioè non andare più verso l'obsolescenza programmata ma bensì andare a modernizzare quelle che sono le tecnologie che già abbiamo con ovviamente un minor spreco di risorse anche qua ci sarebbe da fare un video solo su questo perché le tecniche ingegneristiche sull'auto ormai sono futuristiche e superano ogni condizione che abbiamo non c'entrano più niente con le auto che ancora stanno vendendo in realtà potremmo fare veramente quello che vogliamo articolo 2 comma 9 la trasformazione dei veicoli sarà incentivata da fondi derivanti della stessa azienda statale appositamente creata che si scuperà della progettazione sviluppo vendita installazione dei componenti produzione dei componenti però dislocata terzi questo logicamente perché non si può occupare lo stato di tutto ma può creare quelle che possono venire definite le officine statali c'è un altro progetto dove fondamentalmente uno progetta la sua auto così come si va dall'architetto per far progettare una casa uno va a farsi progettare il tipo di veicolo come lo vuole ovviamente che rispetti determinate regole inquinanti porta un veicolo lo trasforma e lo abilita gli fa poi la certificazione e dopo lo immatricola logicamente questo deve essere come dire incentivato dallo stato non facendogli pagare 3.000 euro di immatricolazione magari ma cercando di fare un'immatricolazione o a costo zero o a basso costo comunque diciamo che già lo stato guadagnerebbe dal fatto che fa lavorare dei produttori fa lavorare delle persone per produrre tutti questi tutti questi progetti questi pezzi che andrebbero prodotti e noi siamo molto bravi a produrre tutte queste cose abbiamo tutta una una larga parte di aziende che potrebbe produrre tutte queste cose e quindi si occuperebbe giustamente della progettazione vendita tra virgolette installazione finale di questo articolo 2,3 tutti gli autobus dovranno essere convertiti in filibus o elettrici entro dieci anni salvo gli extraurbani che rispetteranno il comma 2 cioè fondamentalmente andare poi a trasformare anche tutta la viabilità nello stesso modo articolo 2,4 il mantro stradale andrà fatto con materiali fonoassorbenti urtoassorbenti drenanti riciclabili di colore chiaro e dotati di strisce catering frangenti e non accecanti qua avevo fatto tutto uno studio tempo addietro sui sui nuovi materiali che si stanno utilizzando un po' in molte parti del mondo anche per andare a riciclare i materiali plastici per andare a fare delle cosiddetti asfalti che non si bucano sempre costantemente anche qua come dire bisogna entrare poi nello specifico e andare a fare degli studi sopra articolo 2,5 l'autostrada è libera e gratuita a coloro che non la usano per lavoro aziendale trasporti pesanti eccetera ogni auto sarà munita di apposito telepass oppure basterà scaricare un'apposita app su smartphone per evitare ingurghi e soste furgoni e camion pagheranno un surplus a seconda del tonnellaggio non si sta parlando ovviamente di chissà quale cifra ai cittadini esteri viene dato un telepass italiano a pagamento alla frontiera oppure attivare sempre la famosa app sullo smartphone connessa a Paypal o altro sistema di pagamento automatico per i cittadini stranieri in ferro in Italia l'autostrada sarà semplicemente a quota giornaliera articolo 2,7 entro dieci anni andrà aggiornato o installato sull'auto il sistema teleguidato dell'auto da attivare all'ingresso in autostrada impostando il navigatore sul casello di uscita il traffico sarà regolato sulle corsie 80 km orari mezzi pesanti 110 km orari mezzi commerciali 130 o 140 km orari autoveicoli questa legge basta incidenti ingorghi delle ferie morti in autostrada ovviamente questo tipo di tecnologia assomiglia molto alla tecnologia 5G sulla quale io non sono assolutamente d'accordo ma in realtà non è necessario ricorrere alle microonde e alla tecnologia 5G per riuscire a creare un circuito in questo senso stradale in realtà le tecnologie possono essere anche altre e logicamente questo è fatto per chi in autostrada sostanzialmente non ci deve poi ovviamente passare o vivere chissà quanto tempo e logicamente non deve impattare come dire al di sopra di una certa altezza cioè il sistema teleguidato può essere messo all'altezza dell'asfalto cioè nei primi 20-30 cm dal terreno e che poi vada sfumando salendo queste sono tutte tecnologie che si possono come dei radiofare si possono tranquillamente applicare e le conosciamo già in realtà dagli anni 70 articolo 2,8 il gestore di rete autostrade dovrà aggiornare tutto il sistema autostradale appena la revoca della concessione obiettivi riduzione emissioni veicoli 80-90% riduzione impatto ambientale e riduzione incidenti stradali eventualmente da estendere in un futuro anche su superstrade strade scorrimento veloce quindi sempre chiuse o eventualmente tangenziali poi articolo 2,9 speciale motocicli essi sono tenuti a rispettare le tre velocità riportate nelle autostrade 80-110-130 oppure dove presente questa sarebbe una cosa da creare quindi usare una corsia apposita per i motocicli ogni motociclo deve essere dotato di impostazioni della velocità quindi come un cruise control laddove indicato o logicamente sarebbe una una cosa più comoda anche per i motociclisti avere un cruise control semplicemente da poter impostare articolo 3 risorse idriche quindi sulla gestione delle risorse idriche in questo senso l'acqua dovrebbe essere a mio avviso un bene pubblico mondiale esattamente come l'energia l'acqua e l'energia dovrebbero uscire da quello che è il paradigma speculativo su cui abbiamo o su cui hanno sempre ragionato i grandi multi utility del pianeta che avrebbero come sogno di escludere dalle risorse primarie chiunque non abbia il credito per potervi accedere quindi articolo 3 comma 1 andranno migliorati e potenziati gli impianti idroelettrici necessari e verranno dismessi quelli vecchi e obsoleti anche perché abbiamo molti impianti idroelettrici e dighe che ormai fra un po' fanno la fine del Vaillant e speriamo di no comunque va rivisto tutto il sistema in questo senso italiano articolo 3 comma 2 verranno incentivati gli impianti microidroelettrici come ho detto prima nel rispetto del territorio e dell'impatto ambientale anche questi possono essere completamente interrati e nascosti sotto terra articolo 3 comma 3 andrà incentivato il potenziamento del trattamento delle acque reflue e ogni azienda potenzialmente inquinante dovrà fare un piano di rientro per ogni inquinante emesso in acqua terra o cielo in collaborazione con tecnici qualificati statali e con piani di ammortamento e premi per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere verso un progetto impatto zero ecco questa è un po' più complessa nel senso che le acque reflue di solito anche quelle utilizzate dalle aziende particolarmente in tutti i settori quindi da partire dall'agricoltura poi all'allevamento fino ad arrivare alla metallmeccanica alla produzione di materie plastiche produzioni chimiche biochimiche medicali tendenzialmente possono emettere in acqua terra o cielo quindi attraverso le combustioni attraverso tutte le produzioni emettono tantissimi inquinanti al di là della produzione fatta cioè se produco un diserbante il diserbante già di per sé è un inquinante nella produzione del diserbante le emissioni possono essere di ossine o come è successo negli anni 60 non ricordo dove su vicino Novara se non ricordo male Seveso doveva essere quindi in questo senso lo Stato cioè noi cittadini perché noi cittadini siamo uno Stato dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini dovremmo smettere di pensare alla punizione sia in senso scolastico a partire dalla scuola ma dovremmo smettere di pensare a questa cosa biblica della punizione divina se uno sbaglia no tendenzialmente se tu mi raggiungi degli obiettivi così come in un'azienda veni premiato tendenzialmente quando non raggiungi degli obiettivi veni bocciato cioè è una è una cosa abbastanza banale noi abbiamo troppo la cultura della punizione non hai fatto tutto quello che dovevi fare però non c'è poi dall'altra parte non c'è il corrispettivo del premio non è una cosa premio a livello aziendale può essere meno tasse può essere un incentivo statale da conseguire un premio con la collaborazione aziendale da dividere insieme ai dipendenti ai collaboratori quindi una cosa condivisa quindi non rimane soltanto per le dirigenze ma che in questo caso diventa uno sforzo collettivo quindi l'azienda non è soltanto il CEO ed eventualmente il CDA ma anche quello che pulisce i cessi dell'azienda che logicamente anche lui ha dato il suo contributo questo dovrebbe essere una norma etica l'etica dovrebbe rientrare a fare parte della nostra vita in tutti i settori a partire proprio da adesso pensate come fare reinserire l'etica nel nostro discorso quotidiano personale e collettivo e in questo senso l'obiettivo è quello di andare più possibile verso l'impatto zero e questo è ovviamente anche possibile a seconda di ciò che si va poi a produrre logicamente perché se vado a produrre biologico piuttosto che petrolchimico è logico che già di base avrò dei lavorati che sono diversi e quindi con un impatto differente logicamente io non devo tra virgolette perdere delle aziende devo trovare il modo di rendere queste aziende sempre più operative sempre più fruibili devo riuscire a incentivare in questo senso la produzione di materiali che siano sempre più all'avanguardia sempre più green diciamo nella loro compostabilità nella loro insomma che non siano in grado di nuocere all'ambiente logicamente e agli esseri umani soprattutto e che logicamente chi riesce meglio e velocemente a raggiungere degli obiettivi di impatto zero logicamente sono quelle aziende che verranno premiate meglio di altre semplicemente articolo 3,4 ogni abitazione privata ogni nuova cucina venduto prodotta entro dieci anni dovrà adottarsi di sistema di purificazione integrato con rubinetto erogatore di acqua purificata e sanificata legge progetto zero plastica ecco basta bottiglie di plastica cioè siamo qua che ce la stiamo ammendando lo so che magari nel rinnovo di un di uno stato potrebbe sembrare quasi una legge ridicola in realtà mi dispiace ma la bottiglia di plastica fa parte di uno di quei tanti prodotti petrolchimici a grande impatto ambientale così come le buste latine abbiamo tantissimi prodotti di plastica che si potrebbero evitare e questo ci permetterebbe di investire sempre meno sul petrolio usare meno petrolio per far muovere le automobili per non arrivare quasi allo zero e utilizzare sempre meno petrolati in ogni settore della nostra vita questo per andare a ridurre quello che è la nostra dipendenza dal petrolio e soprattutto avere un rubinetto erogatore in casa ti permette di avere un'acqua purificata e sanificata che non è morta come quella delle bottiglie di acqua che deve venire abbattuta e poi riaggiunta con tutti i sali minerali che vengono descritti in etichetta sulla bottiglia adesso io ho una semplicissima una bottiglia di acqua dove ci sono appunto tutta questa cosa qui ma in realtà queste sono cose che vengono aggiunte dopo perché l'acqua è stata sterilizzata perché altrimenti non potrebbe stare qua sei mesi o un anno oppure un anno e mezzo e semplicemente l'acqua viene completamente depurata quindi non è più acqua viva e non è acqua nutriente per realmente nutriente per il corpo umano perché mancano tutti i nutrienti vivi di microorganismi e microbatteri che di solito vivono all'interno dell'acqua e che servono appunto al nostro corpo per rimanere sano in realtà da quel punto di vista è meglio bere l'acqua di rubinetto se proprio vogliamo logicamente l'acqua di rubinetto può contenere tutta una serie di cose che appunto derivano da tubi vecchi che arrivano da depurazioni malfatte perché non tutte le città non in tutta Italia hanno la fortuna magari di avere degli ottimi depuratori tubi e quindi logicamente si rischia di avere anche piombo cadmio alluminio altri inquinanti di risulta oppure come è successo qua vicino a Modena Lambrusco si è rotta una tubatura di un'azienda di Lambrusco e si sono trovati il Lambrusco che usciva dal rubinetto vabbè quello non è un inquinante la gente si è spillata vino per mezza giornata e poi dopo è tornata l'acqua normale pazienza comunque in questo senso avere un depuratore in casa quindi un depuratore a sale ma anche un depuratore io ce ne sono di tanti tipi non voglio entrare in questo argomento adesso però si può tranquillamente avere un depuratore e con un rubinetto erogatore che può fare l'acqua calda calda fredda temperatura ambiente naturale gassata quindi tranquillamente come l'acqua alla spina al bar sostanzialmente articolo 3,5 verranno altresì costruiti incentivi per il trattamento delle acque reflue e piovane secondo la tecnica zero spreco e serbatoi interrati materiale riciclabile a impatto zero per lo stoccaggio secondo i bisogni dei vari quartieri cittadini e comunità agricoltura e industria secondo i parametri geologici di sicurezza stabiliti questo è il trattamento delle acque reflue quindi delle acque piovane che ne possiamo andare a riutilizzare spesso e volentieri laddove ce ne fosse bisogno logicamente specialmente per l'agricoltura l'industria e l'allevamento e l'allevamento che possono essere tranquillamente usate in tantissimi modi già in realtà alcuni lo fanno e questa sarebbe una cosa da studiare nelle sue potenzialità per non andare particolarmente in estate in certe zone ad andare a usare dell'acqua magari di fonte dell'acqua di montagna per magari irrigare i campi quando possiamo tranquillamente andare ad abbattere usare l'acqua l'acqua semplicemente piovana stoccata secondo determinati criteri quindi riutilizzata e rimessa in circolo nell'utilizzo industriale eccetera articolo 3,6 i produttori di acqua reflua con impianti di trattamento diveranno fornitore della rete idrica pubblica risorse idrica ridistribuita come quella elettrica questo esattamente articolo 4 passiamo all'articolo 4 lasciamo un attimo per perdere le acque che comunque sì il progetto è comunque quello di far funzionare la rete idrica e la rete elettrica come libere quindi in questo senso senza pagare le famose bollette alla gente cioè l'eliminazione di queste due bollette sarebbe quindi acqua luce e gas anzi tre eventualmente andando avanti ci sarà sicuramente un minimo spreco di gas ma molto più basso rispetto a quanto già non non paghiamo adesso articolo 4 verde pubblico privato zone boschive e agricoltura articolo 4,1 per la salute pubblica e il risparmio energetico in calorie dato dall'ombra degli alberi nelle città non può esservi meno di un albero ad alto fusto minimo ogni 20-30 metri quindi basta tagliare gli alberi per il 5G andranno scelti i giusti alberi autoctoni e di facile manutenzione nonché resistenza alle malattie secondo delle regioni gli alberi nelle città oltre a fornire ombra e clima più fresco agiscono sul microclima di zona trasformano la CO2 in eccesso l'ossigenazione aumentata anche in città è benefica per le malattie respiratorie e le disfunzioni cardiache e porta notevole risparmio alla sanità pubblica legge progetto il bosco in città ora è vero che da qualche parte le radici dei pini danno un po' fastidio perché rovinano il cemento e va bene allora non metteremo soltanto dei pini come a Milano Marittima o come in Romagna appunto ma ci possono essere tanti altri alberi oppi olmi frasini sono veramente tanti che essi in città hanno un affetto molto benefico perché già da solo un albero ti può abbattere tantissimi inquinanti e quindi noi dovremmo fare una bella cosa togliere tutto quel cemento che non serve ce n'è tanto di cemento che non serve e fare più zone di ombra e di fresco queste dovrebbero essere una delle priorità del benessere se uno vuole delle città che possano ospitare le persone senza che si ammalino troppo articolo 4,2 sono incentivate le riqualificazioni nelle vecchie aree industriali di produzione eliminando circa il 30% del cemento da ogni città per promuovere aree boschive di produzione agricola permaculturata legge progetto il bosco commestibile o il giardino dell'Eden allora io ho fatto più o meno un conto di quella che è stata la dismissione dagli anni 70 80 in avanti particolarmente con la crisi degli ultimi anni dopo gli anni 90 ci sono praticamente in tutte le città quindi zone ex ormai zone industriali riqualificabili con degli enormi enormi spazi praticamente abbandonati e lasciati a loro stessi o comunque di proprietà anima privati che ovviamente però hanno chiuso le fabbriche hanno chiuso le aziende quindi hanno questi capannoni che non sanno che cosa farsene oppure aree cementate comunque usate per lo stoccaggio aree che sono state usate per tantissimi motivi insomma adesso non indaghiamo quindi ho calcolato che di tutte queste aree fondamentalmente il 30% di ogni città che abbia una forte industrializzazione quindi al di là della zona di casa ma poi anche spesso sono anche fabbriche anche nelle zone abbandonate anche nelle zone residenziali di tutte queste aree praticamente in una città il 30% sostanzialmente 25-30% del cemento è ad oggi inutile allora queste aree qua anche andando verso un particolarmente sono periferiche per la maggior parte non sono certo centrali non è in Italia dove abbiamo comunque la geologia del territorio quindi con un centro storico e mano a mano sempre più le industrie sempre più verso la periferia quindi dato che noi abbiamo questa bella cosa erano le ex campagne intorno alle città di una volta sostanzialmente noi potremmo andare a eliminare quel cemento che non ci serve più e andare a fare un progetto di permacultura e qua bisognerebbe entrare nel discorso della permacultura io vi consiglio poi magari lo metterò sotto il link in descrizione un link per capire bene che cos'è la permacultura come si può andare a creare un bosco commestibile questo è un po' il sogno nel senso il bosco commestibile si automantiene immaginiamo un bosco il bosco non lo devi coltivare il bosco cresce e basta e questo lo possiamo impostare da un punto di vista tecnologico però con delle piante che diano frutti e cibo commestibile quindi tendenzialmente una volta che uno ha trovato l'omeostasi quindi corretta per tutte le varie piante che deve andare a mettere all'interno è logico che dopo l'unica cosa che devi fare è andare a pulire eventualmente raccogliere e quindi dopo 4-5 anni c'è ben poco lavoro da fare lavoro maggiore si fa all'inizio per impostare questo dopo si può eventualmente espandere se uno lo vuole espandere e questa è una tecnologia fantastica il giardino dell'Eden sostanzialmente articolo 4-3 la gestione dei boschi permaculturati viene affidata ai singoli comuni su progetto statale questo per facilitarne comunque la gestione ma può anche essere dato un progetto in mani privati senza nessun problema articolo 4-4 i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza mettendo che questa cosa rimanga sono tenuti a lavorare come fattore del nuovo millennio in altre attività statali a loro scelta se vogliono e potranno usufruire di corsi di formazione gratuiti ecco soprattutto quello che serve nel giorno d'oggi è la formazione in ambiti green cioè appunto queste tecnologie sono già pochi quelle che le inventano e che le studiano sul serio ma anche ovviamente meno gente che le promuove e che le sa poi operare effettivamente sul territorio e le sa inserire nelle attività nelle gestioni quotidiane nelle aziende perché logicamente è tutta una mentalità nuova fondamentalmente questa di approcciarsi al mondo e meriterebbe come dire appunto che ci siano dei formatori che formino appunto le persone su tutte queste nuove tecnologie perché si può anche coltivare pensate un po' senza dover arare i campi vallo a dire agli agricoltori fanatici a chi pianta la benna più in profondità nel terreno no in realtà bisogna fare proprio una riformulazione una riformazione proprio anche di quelle che sono molte credenze tecniche che noi abbiamo ormai assunto come sodate come l'utilizzo di pesticidi fertilizzanti in realtà dobbiamo dare sempre più pesticidi sempre più fertilizzanti perché il terreno è sempre più debole anche perché lo scaviamo sempre più a fondo e perché gli diamo sempre più pesticidi quindi tutto quello che è l'humus batterico del terreno ormai sta morendo quindi bisogna proprio questo è sempre magari sempre nel link della permacultura in descrizione bisogna proprio come dire cominciare a capire meglio come funzionano determinate cose questo potrebbe essere anche un buon incentivo per dismettere tutta una serie di mezzi agricoli una parte non tutti logicamente ma una parte di mezzi agricoli che fondamentalmente non servirebbero più articolo 4,5 i volontari invece saranno pagati in buone spese da spendere nella rivendita stessa del bosco permaculturato nei supermercati si può fare anche volontariato sul progetto comunale quindi supermercati che acquistano i prodotti cittadini a chilometro zero legge progetto comunque chilometro zero biodinamico per sostanza il progetto è quello di rendere ogni città da un punto di vista almeno ortofrutticolo indipendente senza bisogno di prodotti che arrivano dall'estero articolo 4 questo per evitare anche tutti i camion che devono il frigo soprattutto che devono portare in giro tutte le derrate in giro per il mondo e non si capisce come dobbiamo portare le arance dalla Turchia quando noi ce le abbiamo qua a portata di mano o le zucchine magari dalla Spagna non ha senso articolo 4,6 tutti i prodotti agricoli esteri subiranno una tassazione del 50% giustamente articolo 4,7 saranno erogati incentivi per gli imprenditori del settore agricolo che vorranno unirsi al progetto bosco commestibile verrà offerto supporto informativo sull'agricoltura senza aratura e senza macchinari presenti legge progetto riduzione mezzi agricoli appunto quello che stavo dicendo che è possibile o comunque se non senza riduzione appunto articolo 4 risparmiando anche tanto petrolio bollo costi di manutenzione dei mezzi obsoleti quindi recuperiamo anche quel metallo che non serve più articolo 4 comma 7 bis saranno altresì forniti incentivi per la costruzione di serre idroponiche e aeroponiche a piani rialzati nei palazzi soggetti a riqualificazione sopra i 4-5 piani di altezza per la produzione di prodotti frutticoli ortaggi non autoctoni che saranno selezionati per tipologia di clima e necessità le serre saranno vetrate con vetri fotovoltaici dotati di sistema di trattamento delle acque riflue per essere totalmente indipendenti energeticamente idricamente come sopra ora la tecnologia idroponica e aeroponica io vi consiglio di fare un giro online vedere che cosa trovate molto interessante noi abbiamo anche qua volendo molti palazzi o palazzine di smessi di uffici eccetera o abitazioni che non sono più utilizzate palazzi commerciali che non sono più utilizzati che anche di 4 o 5 piani in altezza che possono appunto essere riutilizzati per la produzione appunto di frutticoli ortaggi e altre specie vegetali quindi non autoctone in questo senso che necessitano ovviamente di climi particolari che possono essere ricreati tranquillamente certo ci sono dei prodotti invece esteri che non possono essere comunque prodotti perché necessitano di essere di determinati ambienti non ricreabili e allora in quel caso è indispensabile importarli dall'estero l'obiettivo ovviamente è quello di far girare il meno possibile le grandi navi cargo che girano per il mondo allora già solo di petroliere ne girano 10.000 quindi era uscito un articolo poco tempo fa che parlava le navi da crociera consumano come 10 milioni di automobili abbiamo ben 30 navi da crociera che girano intorno all'Italia capito le 10.000 petroliere dove le mettiamo poi vediamo quante sono le navi cargo oltre alle petroliere che se sono 10.000 solo le petroliere le navi cargo quante saranno 100.000 non lo so vorrei fare un bisognerebbe andare a controllare quante sono navi che fanno le petroliere fanno due viaggi una andata e una ritorno logicamente quindi fanno 20.000 viaggi e qua abbiamo dei consumi che sono ovviamente fuori dalla norma inquinanti che vengono continuamente estratti senza senso tutta questa cosa non dico che debba fermarsi ma sicuramente ridursi notevolmente e anche qua sempre con fotovoltaico sistema di trattamento delle acque eccetera articolo 4,8 e se veramente vietato appena sequestro dell'attività qua sono cattivo utilizzare componenti chimici fertilizzanti tossici e ogni tipo di prodotto petrolchimico non ecocompatibile sugli alimenti salvo casi specifici di salvaguardia ambientale infestanti naturali insetti e piante all'ottone quando non possibili soluzioni naturali o ecocompatibili ora noi abbiamo anche tutta una serie sia di fertilizzanti naturali a base di miceti di funghi che stanno venendo studiati negli ultimi anni che sono completamente naturali non inquinano fondamentalmente cibo falde acquifere eccetera ma soprattutto stiamo stanno io personalmente chi si occupa di queste cose si sta valutando la grande efficacia dell'omeopatia in questo caso nel trattamento delle piante e degli animali che pare funzioni quasi più sull'essere umano non voglio entrare nella funzionalità in questo caso dell'omeopatia ci sono tutti degli studi sui biocluster di acqua informata fatte dai grandi fisici preparata del giudice che hanno abbastanza capito come funziona appunto il principio in realtà dell'omeopatia sono riusciti anche a ricreare questa cosa anche Luc Montagné ha studiato appunto su questa cosa quindi si sta parlando di premi nobel e fisici importantissimi quindi ormai non sono più charlatane tecnologie che bisogna imparare a conoscere sempre meglio e ad applicare sempre di più anche perché queste non sono dannose per la salute articolo 4,8 bis sono severamente vietati tutti i semi OGM non autoctoni derivati da manipolazione genetica o stati extraeuropei viene invece premiata e promossa la ricerca delle antiche sementi e della biodiversità alimentare in campo ortofrutticolo ora è logico che tutto ciò che è stato manipolato geneticamente bisogna vedere come è stato manipolato anche qua sono severamente vietati qualcuno è convinto che gli OGM saranno il futuro io non ne sono abbastanza convinto ma logicamente questo è un discorso che deve essere messo sulla tavola scientifica e valutato nel nei suoi in tutti i suoi sviluppi ricavi e benefici perché logicamente ci deve essere una bilancia perché se ne possiamo avere lo stesso prodotto di tipo naturale allora non vedo perché devo andare a produrre un OGM soltanto perché il pomodoro magari è più bello il pomodoro più bello non mi interessa che il pomodoro sia più buono e più sano non più bello eventualmente ovviamente tenendo conto che chi sviluppa semi OGM pensa di fare una coltivazione magari di pomodori in Arkansas che per esempio possa sfamare tutto il mondo io d'ora in avanti produrrò pomodori per tutto il mondo mi servono dei pomodori che crescano in due giorni non in due mesi allora a questo punto si va a fare un'accelerazione sul genere della crescita bisogna poi vedere se questo pomodoro è ugualmente sano ugualmente buono contrariamente se noi siamo produttori a chilometro zero ogni città fondamentalmente ogni comune ogni regione in provincia è fondamentalmente sufficiente autosufficiente da un punto di vista alimentare almeno per quanto riguarda gli alimenti allora non abbiamo più bisogno di incentivare questo tipo di direi cultura cultura aggressiva e scientista che tende a manipolare la natura oltre il necessario articolo 4,9 gli allevamenti intensivi andranno regolamentati secondo il diritto dell'animale a vivere una vita dignitosa ecco io per quanto sia olistico non sono vegano e nemmeno vegetariano ogni tanto carne la mangio la mangio molto poca in realtà e se mi va logicamente non compro carnazza quella appunto della batteria e non vado certo al mcdonald ma questo per scelta mia personale poi se qualcuno ci vuole andare o magari se il mcdonald a parte che penso che abbiano fatto anche dei menù con carne italiana ad alta qualità insomma cercano di fare anche dei menù prodotti migliori con un costo superiore logicamente all'hamburger classico insomma comunque sì il concetto è andare a migliorare quella che è la qualità di vita innanzitutto dell'animale e quindi per produrre una qualità di carne sicuramente migliore quindi saranno vietati mangimi chimici farmaci dove non necessario vengono imbottiti di farmaci vaccini laddove non necessario antibiotici sempre laddove non necessario salve emergenze sanitarie conclamate logicamente se l'animale viene cresciuto nella maniera sana non si ammala nemmeno quindi tendenzialmente il problema che si sovrabbondano farmaci e vaccini negli animali è proprio per come vengono allevati per quello che gli viene dato da mangiare allora dato che l'animale tendenzialmente vive malissimo e quindi tendenzialmente si ammala allora lo imbottiamo di farmaci perché così non si ammala in realtà dovremmo fare vivere semplicemente meglio l'animale quindi celle che non permettono il movimento dell'animale mattanze inumane e tutta un'altra serie di cose inumane ecco quindi gli umani non dovrebbero più trattare così gli animali articolo 4,9 bis quindi una giunta gli allevamenti saranno obbligatoriamente a cielo aperto e secondo tutti i canoni per la certificazione di carne classe A dislocati nelle campagne libere attrezzati in territori montani o attrezzati in territori montani saranno premiati anche qui premio e non punizione quegli elevatori che verificheranno e certificheranno la carne in etichetta con analisi e adotteranno la politica della fattoria aperta alle visite pubbliche alle amministrazioni e alle scuole per progetti didattici di conoscenza degli animali e progetti pet therapy con animali di allevamento legge progetto fattoria aperte ora in realtà è molto importante che secondo me i bambini abbiano anche un contatto con gli animali e anche gli animali con i bambini io non trovo sbagliato l'alimentazione a base di carne nel suo globale trovo sbagliato come gli animali vengano trattati come vengano sfruttati anche ignominosamente come una catena di montaggio spesso e volentieri come vivano nel terrore e soprattutto non abbiano anche loro diritto a una vita dignitosa e questo dovrebbe essere garantito non soltanto agli animali ma anche a tutti gli esseri umani nel pianeta la vita dignitosa ed etica e poi mangiare gli animali finora ha sempre fatto anche parte della nostra cultura quindi non non si può pensare di eliminare da un giorno all'altro come i nazi vegan vorrebbero fare però sarebbe un buon punto di partenza consumare molta meno carne questo anche per la salute personale quindi in questo senso piuttosto che puntare sulla quantità puntare in realtà sulla qualità quindi se io devo mangiare invece che una bisteccazza piena di estrogeni o chissà quale altra diavoleria chimica tutti i giorni magari la mangio una volta a settimana ma quella volta mi faccio una mangiata di carne con i fiocchi sostanzialmente e io ho tutte le proteine che mi servono ammesso che io creda che debba assumere assolutamente proteine in quel mondo in realtà una proteina la può ricavare anche da tante altre fonti articolo 4,10 la situazione boschiva italiana è disastrosa è necessario ripristinare un corpo forestale statale non militare con specifiche competenze tecniche in tutti i campi dal tagliaboschi fino al geologo al guardia caccia e molte altre figure professionali specializzate sarebbe un campo enorme veramente servirebbero io penso per monitorare tutta la nostra situazione italiana secondo me forse 100-200 mila persone e iniziare una politica di riqualificazione nelle foreste ed aree protette riqualificazione e pulizia del sottobosco strumenti per il monitoraggio degli animali selvatici incentivi agli elevatori montani per la protezione degli elevamenti ovini dai lupi che stanno diventando in effetti endemici questi lupi anche le volpi ma particolarmente i lupi purtroppo gli elevatori sono neanche risarciti tra le altre cose quindi non c'è una monitorizzazione non ci sono incentivi per gli elevatori per mantenere al sicuro gli allevamenti e quindi abbiamo una grossa distruzione una grossa problematica in realtà per gli elevatori un po' in tutta Italia ormai quindi incentivi gli elevatori montani perché comunque a noi serve anche che questi animali vivano bene e quindi che gli elevatori che vivano bene quindi andare anche a salutare le pecorelle è una bellissima cosa quindi c'è per la protezione degli elementi strutturazione di aree faunistiche chiuse alcune anche per la ripopolazione animale e vegetale visitabili solo dietro permesso e accompagnati da una guida e questo sarebbe solo l'inizio perché poi ce ne sarebbe davvero tanto da dire da fare bisognerebbe fare intervenire persone molto competenti sui boschi sulla situazione geologica fisica faunistica eccetera le cose a dire sono veramente tante queste sono appunto soltanto degli spunti per capire come iniziare a mettere mano appunto al nostro paese che ormai è devastato quindi adesso l'articolo è praticamente finito per ora mi fermo qua credo che ne avrei tante altre di idee ma usciremo ad altero e puramente ambientale come incentivi alla spaggeria fitofarmacia olio essenziale prodotti naturali con una formazione integrativa parallela ai medici e alla formazione di centri della salute a 360 gradi quindi sia medicale che olistica dando incentivi e premi per usare farmaci solo in caso di reale necessità come in realtà già accade in Germania nonché analisi tempestive prima dell'assunzione di qualsiasi farmaco o vaccino se necessario quindi con una monitorizzazione in realtà anche dei farmaci e vaccini io poi in realtà sarei molto duro su questo nel senso che la produzione di farmaci o vaccini non può essere delegata a dei privati o se lo è deve essere monitorata passo passo perché devono essere sicuri veramente al cento per cento e devono passare non un doppio ma un quadruplo cieco in questo senso e particolarmente le analisi sui vaccini io in realtà come ho specificato più volte non sono uno vax non sono un si vax non sono vax niente ma semplicemente mi baso sui dati e le analisi che negli ultimi anni sia in Germania ma anche in Italia fatte da Stefano Montanari sia riguardo ai metalli e agli inquinanti ma anche le ultime fatte da Laura Bolgan con l'associazione Corvelva quello che hanno evidenziato è che effettivamente ci sono tanti inquinanti non dichiarati che non dovrebbero esserci all'interno dei vaccini che non sappiamo realmente se facciano più male che bene certi vaccini e quindi logicamente ci vorrebbe un'attenzione veramente scientifica ma realmente scientifica non una scienza chiacchierata cioè una posizione una tavola rotonda si mettono lì gli essenziali fanno delle analisi dicono questa cosa non ha passato il test di qualità con ovviamente dei margini molto ristretti in questo senso per quanto riguarda spageria fitofarmacia gli essenziali prodotti naturali eccetera sono tutti quanti non cure capiamolo bene servono per non ammalarsi non per andare a curare è logico che noi dobbiamo avere questa doppia mentalità quella della prevenzione prima ed eventualmente quella della cura poi ma la prima in Italia è praticamente assente non si è mai investito in quel senso quindi io non voglio non sono quello che dice ah non bisogna usare farmaci non bisogna delle vaccini no queste con tutte cose che vanno bene non dobbiamo eliminare la scienza non dobbiamo tornare nel medioevo assolutamente no dobbiamo semplicemente potenziare in realtà quelle che sono tutte le nostre conoscenze lasciando perdere le dicerie stregoni usate le piante in realtà la farmacia parte dalle piante inzi bisognerebbe in realtà produrre i farmaci proprio a ripartire dalle piante naturali e non più dal petrolio come si sta facendo in realtà ultimamente perché sempre di più la farmacia si basa sulla petrolchimica per la produzione dei farmaci altro punto la promozione del patrimonio artistico culturale con la formazione di guide turistiche specializzate creando protocolli para-universitari delle belle arti e la formazione di operator specializzati sul territorio italiano nei vari settori possibili qua noi abbiamo arte, cultura, spettacolo in Italia è un settore che ormai non dico che sia morto ma è ancora ben vivo in realtà ma purtroppo è un fanalino di coda ormai in realtà è bello in Italia perché un tempo c'erano concertini gente che suonava dappertutto qua bisognerebbe proprio fare una rivoluzione in questo campo e nell'arte perché abbiamo ovviamente il 70% del patrimonio artistico e culturale mondiale noi siamo un museo a cielo aperto di cui la maggior parte degli italiani non sa nulla ne sanno quasi di più quelli che vengono dall'estero per vedere le nostre arti che non gli italiani che in Italia ci vivono e questo è un problema evidentemente dell'istruzione scolastica che non non lo valuta più sappiamo anche che la scuola si è negli ultimi 20-30 anni aziendalizzata e quindi logicamente ha tolto la maggior parte delle materie artistiche quindi queste cose qua non gli viene data più la giusta importanza così come anche le materie di formazione del pensiero letterarie anche quindi in questo senso bisognerebbe intervenire poi politica di protezione dei mari con la riduzione di navi commerciali come già detto i pescherecci limitando la pesca nelle sue forme che danneggiano la flora e la fauna marina e potenziando tutti gli strumenti che in realtà già ci sono oltre a limitare i corridoi per le grandi navi limitando l'importazione di ciò che non è necessario e che l'Italia produce in sovrabbondanza ma nemmeno raccoglie perché acquistiamo prodotti da altri paesi e magari anche di peggiore qualità di arance olive miele eccetera quindi incentivare la produzione di canapa solo sulla canapa si aprirebbe praticamente una discussione di un'ora un'ora e mezza e fare studi mirati sulle decine e decine e decine di applicazioni possibili in ogni campo sono tantissime infatti per quello è sempre stata sabotata innanzitutto perché si può addirittura fare i combustibili con l'olio di canapa e con si può andare a costruire materiali plastici a partire dalla canapa si può andare a costruire a fare dei tessili con la canapa si può andare a fare gli alimenti a base di canapa si possono fare le bevande a base di canapa quindi serve talmente tante cose che l'aspetto che la canapa si fuma anche in realtà dovrebbe essere l'ultimo che ci interessa questo partendo anche dal fatto che noi possiamo anche coltivare canapa che non non dà quella con zero THC quindi non avremo nessun problema in realtà da un punto di vista legale a produrre quella canapa ma momentaneamente è evidentemente sabotata questa cosa ma le applicazioni sono veramente tantissime la canapa potremmo definirla il petrolio del terzo millennio il business ci sarebbe sicuramente per chi volesse mettersi a produrre canapa io qua do anche un là a qualcuno qualcuno ha un campo vuole studiare in tal senso servirebbero appunto tutta tutta una filiera nuova perché qua con la canapa si può veramente arrivare forse a cambiare la faccia del mondo posso allargarmi anche a dire questo quindi sempre nel rispetto ovviamente della biodiversità e del territorio quindi non ci mettiamo a tagliare boschi per coltivare canapa come invece purtroppo per dare da mangiare alle persone abbiamo fatto nel Medioevo che abbiamo distrutto tutti i boschi per coltivare campi di grano perché questo è stato un po' un problema eccetera nel passato l'abbiamo già fatto quindi noi continuiamo a tirare giù boschi per mangiare o fare cose quindi una legge in questo senso a protezione delle foreste e degli alberi secolari fare una mappa degli alberi secolari circondarli col filo spinato se serve giù le zampe da nonno albero giù le zampe dagli alberi basta tagliare gli alberi gli alberi sono la nostra vita senza gli alberi non abbiamo l'ossigeno senza gli alberi da frutto particolarmente non ci sono i fiori le api non sanno dove andare si rompe il ciclo dell'impollinazione andiamo verso la desertificazione questo ce lo dobbiamo mettere bene nella testa quindi andando in conclusione gli obiettivi a mio avviso da raggiungere sarebbero e sono abbattere tutte le tipologie di inquinanti potenziare le risorse naturali in un'economia basata sulle risorse usare la tecnologia verde ma la tecnologia che già esiste da decenni la creazione di un indotto e la conseguente creazione di tanti posti di lavoro per chi non ha lavoro ovviamente abbiamo anche 15 milioni di disoccupati a cui dover pensare e quindi qua ci può essere nel futuro green ci possono essere tanti posti di lavoro che si vengono a creare le aziende non allineate non andranno chiuse per non perdere poi posti di lavoro e tasse pensieri convertite semplicemente nel tempo secondo un progetto a tempo sostenibile per tutti danno anche il tempo alla nazione poi di entrare in nuovi paradigmi di pensiero e di formarsi in merito ad essi è logico che ci deve essere comunque un progetto politico che come il partito dei verdi che non esiste esiste ma ormai in Italia non conta praticamente più nulla ma comunque se vogliamo andare davvero verso un'Italia migliore a mio avviso questo è il modo giusto di porsi questa almeno è la mia visione perché fondamentalmente non è partitica non è di destra o di sinistra la salute e l'ambiente sono di tutti e chi ci ha sempre governato nell'ultimo secolo ha basato il suo dominio sul consumo sul sovraconsumo dei prodotti sul consumismo e soprattutto sul petrolio queste sono state ovviamente anche adesso sulla finanza internazionale le banche la moneta eccetera adesso non voglio entrare anche in tutto quell'aspetto lì e poi in conclusione quindi puntare sul turismo perché più più turisti noi abbiamo più diamo in realtà valore a questo territorio e trasformare questa Italia nel più bel parco turistico naturale e culturale del mondo e non in una discarica a cielo aperto di rifiuti tossici come ormai l'Italia è tutta una terra dei fuochi dall'inizio alla fine quindi ripulire l'Italia quindi mettersi a bonificare tutto il territorio italiano e a rifarlo sostanzialmente rifare anche la cultura degli italiani potrebbe essere una bella sfida per il terzo millennio o comunque per questo secolo a venire io non posso altro che dire mi auguro che accada e sarò spero tra i ideatori rifautori di questo ci impegneremo sempre di più io saluto tutti quanti vi ringrazio di aver visto questo video se avete dei commenti delle condivisioni delle domande dite la vostra sotto nei commenti se vi è piaciuto il post il video logicamente lasciate un like se volete schiacciare la campanella per rimanere aggiornati bla 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 grazie 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 grazie